Sto lavorando con un'associazione per riportare il clochard di via Carducci in Romania, potrebbero esserci novità entro il weekend. Così il vice sindaco di Trieste Paolo Polidori ha telequattro. Quanto alla vicenda personale, con il pagamento della sanzione amministrativa per non aver messo nel sacco nero le coperte e gli indumenti del senzatetto gettati nel cassonetto, ha rivelato poi a Lansa la questione è davvero chiusa. Non li ho messi nei sacchi neri perché non ce li avevo e questo, dice, dimostra che non c'era premeditazione in quello che ho fatto. Il vice sindaco riporta poi l'attenzione sui comportamenti del clochard. Questa persona, prosegue Polidori, è pericolosa per la sicurezza dei cittadini. Non lo dico io ma un documento della questura si sfoga nei confronti di Mesei e Michai. C'è un provvedimento di allontanamento per tre anni da Trieste ed è stato espulso dalla Francia dove vivono moglie e figli. Nel corso degli anni, a ferma nel lungo colloquio con l'agenzia ANSA, l'uomo ha collezionato minacce, resistenza pubblico ufficiale, immigrazione in stato di arresto in otemporanza all'ordine di allontanamento, indagato in stato di arresto, violenza, minacce, resistenza pubblico ufficiale. L'allontanamento si è reso quindi necessario, ripete citando il documento, a difesa della collettività. Questa persona è pericolosa, aggiunge, anche per la salute pubblica perché è letteralmente coperta da una malattia della pelle e non si vuole far curare. E rincara, alle mie figlie non permetterei mai di passare vicino a dove dorme questa persona, è una situazione, dice, di cui bisogna tenere conto. La scorsa settimana, insiste Polidori, ha provocato una mezza rissa in ospedale. Tutto questo, però, avverte, non lo si è voluto raccontare. Ora è senza tetto e ospitato dalla comunità romena al di fuori del comune di Trieste, visto che a suo carico c'è un provvedimento di allontanamento. Lui, faccia vedere il vice sindaco, ha una casa in Romania e sto lavorando insieme con un'associazione di volontariato per farlo tornare in Romania e per fargli avere anche un lavoro.